buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo webinar di impresa city oggi tratteremo la sicurezza come abbiamo già fatto altre volte ma tratteremo un tema particolarmente interessante che quello del secops e un suo aspetto specifico che i secrets management tema del del secops sta diventando sempre più importante perché è diventato fondamentale quello che in un certo senso l'origine cioè il tema del devops le aziende hanno sempre più necessità di sviluppare direttamente o indirettamente applicazioni e servizi software il mondo dello sviluppo sta cambiando negli ultimi anni con l'introduzione di forme di sviluppo cloud nativo che non sono più la creazione di applicazioni monolitiche ma di servizi o di microservizi inoltre sta aumentando l'importanza ma questo già da tempo che l'aspetto digitale che un'azienda nei confronti dei suoi consumatori sta diventando sempre più importante perché è un aspetto che descrive la capacità evolutiva dell'azienda in un certo senso la sua attrattività tanto che già due anni fa dal palco del mobile world congress a barcellona anadella il CEO di Microsoft aveva pronunciato una frase per certi versi estrema cioè every company is now a software company ogni azienda oggi è un'azienda software volendo sottolineare l'importanza che qualsiasi forma di sviluppo stava assumendo è chiaro che avere sviluppo sempre più intenso sempre più veloce ha aperto la porta dei problemi di sicurezza perché le cose che vengono fatte in fretta a volte non vengono bene e la cronaca della sicurezza negli ultimi mesi lo ha ampiamente dimostrato cito solo il caso solar winds su cui magari torneremo dopo per descrivere a che punto siamo oggi ne parliamo con due persone che avete già avuto occasione di conoscere che sono michelangelo uberti che marketing manager di parte buongiorno michelangelo e maurizio ostinet che solution architect e mea di one identity io lascerei direttamente la parola michelangelo che ci illustrerà abbastanza ampiamente il tema del del secops quindi ti lascio lo schermo grazie francesco inizio questo mio intervento salutando e ringraziando i numerosissimi partecipanti a questo webinar siete sempre di più è per me è assolutamente una gioia io sono michelangelo berti mi ha già presentato e in parte francesco e in parte che coordino tutte le attività di marketing una vita fa sono stato un tecnico e prima di passare al marketing ho lavorato nella prevendita e nel tecnico al marketing nel corso degli ultimi vent'anni mi sono occupato di infrastrutture t in ambito telco cloud computing sicurezza e privacy compliance prima di entrare nel vivo della presentazione vi rubo un solo minuto per presentarvi rapidamente l'azienda che rappresento a più di vent'anni dalla sua fondazione partec è oggi considerato uno dei system integrator più attivi nella scena open source italiana siamo un gruppo che attualmente riunisce cinque aziende e comprende più di 200 collaboratori distribuiti tra le sedi di roma e milano ma in realtà in un momento storico come questo qua che stiamo vivendo con remote working siamo un po distribuiti in tutta italia la nostra offerta include prodotti competenze e servizi negli ambiti dell'infrastruttura t ovviamente delle soluzioni verticali per dedicate al mercato finanziario dell'industria 4.0 da qualche anno a questa parte della security e dell'educational ma in realtà ci sarebbe ancora tanto da dire per quanto riguarda la sicurezza le nostre competenze esulano dall'esclusiva rivendita di prodotti di mercato il nostro team si è specializzato nel tempo su aspetti come la consulenza normativa la formazione specialistica a distanza e in aula l'integrazione di tecnologie per la privacy compliance e infine sulla progettazione e realizzazione di soluzioni completamente personalizzate come potete vedere da questa lista di clienti non esaustiva possiamo vantare una forte presenza nei mercati telco e finance ma abbiamo anche all'attivo numerose collaborazioni con i principali sistemi integrator che operano qua in italia i mercati telco e finance però non sono gli unici a quali ci rivolgiamo potrete infatti facilmente riconoscere i nomi di alcune note realtà in ambito pubblica amministrazione e sanità ma non solo veniamo ora all'argomento di oggi non vi rubo altro tempo per spiegare il DevSecOps dobbiamo tornare indietro di 20 anni esatti non vi preoccupate questa premessa durerà giusto un paio di minuti non cannibalizzerà tutto il tempo a disposizione tutto è iniziato nel 2001 con lo sviluppo agile un insieme di metodologie di sviluppo del software che utilizzano dei cicli di sviluppo molto brevi che vengono chiamati iterazioni o sprint che sono focalizzati sul miglioramento continuo di un prodotto di un servizio un progetto un progetto gestito con il classico metodo waterfall o a cascata che dir si voglia prevede una serie di fasi di sviluppo che sono sequenziali quindi l'analisi dei requisiti la progettazione l'implementazione test e rilascio e così via che solo alla fine porteranno un risultato misurabile quello che ho rappresentato con il trofeo arancione come molti di voi avranno sperimentato sulla propria pelle il rischio di arrivare alla fine con un oggetto imperfetto o che non risponda ai requisiti del cliente è molto alto e visto che oggi parliamo di sicurezza la domanda che mi viene da fare è quando è che in questo ciclo vengono fatti i test di sicurezza beh quando vengono fatti cosa che non è per niente scontata ve lo assicuro sono spesso concentrati nella fase finale del progetto quindi se qualcosa va storto siamo costretti a mettere delle pezze assurde o in casi peggiori addirittura si accetta il rischio e si va in produzione lasciando tutto com'è capita tutti i giorni e i risultati li vediamo anche sui sui titoli dei giornali no vediamo cosa cambia col metodo agile prima ho usato il termine sprint capiamo meglio di che si tratta è un piccolo progetto che non dura più di qualche settimana e che al suo interno contiene tutte le classiche fasi di sviluppo lo vedete dai box colorati ogni interazione ha come obiettivo introdurre un piccolo incremento nelle funzionalità del software questo incremento ci deve avvicinare gradualmente al soddisfacimento dei requisiti del cliente non a caso il trofeo lo rappresentato in un modo sempre più grande capite bene che in questo caso il rischio è molto inferiore grazie ai mini relasci e al confronto continuo che c'è tra gli sviluppatori tra il team interno e il cliente è più facile verificare l'avanzamento e correggere il tiro prima che sia troppo tardi questa rappresentazione con gli sprint potrebbe indurci a pensare che i test di sicurezza siano gestiti alla fine di ogni sprint l'esperienza ci dice che in molti casi questo non avviene per qualche strano motivo vengono spesso lasciati alla fine del progetto cioè dopo l'ultimo sprint quindi alla fine della fiera a cosa è servito essere agili se un elemento così importante come i test di sicurezza sono stati lasciati alla fine dopo circa otto anni è arrivato il devops un termine che nasce dalla contrattura delle parole development e operations cioè sviluppo ed esercizio di un'applicazione è una metodologia di sviluppo del software che punta alla comunicazione alla collaborazione e soprattutto all'integrazione tra sviluppatori e addetti alle operations il devops in fondo vuole rispondere all'interdipendenza che c'è tra lo sviluppo del software e le operations puntando di fatto a creare un'organizzazione che sia più fluida e che aiuti a sviluppare in modo più rapido ed efficiente prodotti e servizi software per comprendere meglio questo nuovo paradigma nuovo si fa per dire ormai si parla di qualche anno fa dobbiamo nuovamente tornare all'analisi dei cicli di sviluppo quel che salta immediatamente all'occhio è la rapidità con cui si passa da una fase all'altra e l'incredibile frequenza dei lasci anche e soprattutto grazie all'introduzione massiccia dell'automazione il devops è un approccio che consente di velocizzare il rilascio di nuove funzionalità per rispondere rapidamente alle esigenze del mercato e correggere eventuali errori che sono stati rilasciati con la release precedente a questo punto rifaccio nuovamente la solita domanda i test di sicurezza dove stanno sono stati finalmente integrati nel ciclo di sviluppo spesse volte no anche in questo caso tipicamente arrivano per ultimi molte aziende si limitano a fare i classici vulnerability assessment e penetration test e alcune manco quelli fatemi dire senza concentrarsi troppo sulla qualità del codice capite che a questo punto l'attuale approccio alla sicurezza del software non è più sostenibile ed è qua che entra in gioco il devsecops un termine che alcuni scettici si ostinano a definire buzzword io vi mostrerò che non è una buzzword è un problema concreto secondo Gartner il devsecops è l'integrazione della sicurezza all'interno delle metodi di sviluppo devops e agile nel modo più facile più trasparente e meno invasivo possibile in parole poche in parole povere scusate significa integrare la sicurezza delle applicazioni dell'infrastruttura fin dall'inizio del ciclo di sviluppo automatizzando alcune delle attività di controllo per evitare che queste vanno a rallentare il flusso di lavoro devops sarebbe assurdo aver automatizzato tutto col classico approccio devops e poi rallentare perché molte attività devono essere fatte manualmente magari a posteriori riprendendo lo schema di prima vediamo che il blocchetto arancione non è più alla fine ma è presente integrato all'interno di un sprint e si trova idealmente prima del rilascio in realtà non è esattamente così è una forzatura che ho fatto io ai fini della rappresentazione grafica avremo molti dei controlli in altri momenti ed è per questo che parliamo di continuous security esattamente come parliamo di continuous integration e continuous delivery integrare la sicurezza nel ciclo di sviluppo è un'operazione complessa non ve lo nascondo ma è indispensabile soprattutto ora che la velocità del devops ha reso impraticabile una gestione manuale se così si può dire condotta alla vecchia maniera ok nella transizione dall'approccio waterfall ad agile e devops la revisione dei processi interni è sempre stata prioritaria rispetto all'adozione di nuovi strumenti lo stesso avviene esattamente anche col devsecops dove il cambio di mentalità e la creazione di una cultura della sicurezza che sia condivisa a tutto il team devono arrivare prima della soluzione della scusate selezione di strumenti e tecnologie vediamo insieme alcuni dei cambiamenti richiesti intanto è importante passare da una mentalità one time scan tipicamente dopo lo sviluppo a un processo di security assurance che sia continuo ed effettuato in ogni fase del ciclo di sviluppo è inoltre necessario evitare che gli sviluppatori siano costretti ad abbandonare il loro ambiente di sviluppo gli strumenti per il security testing devono essere integrati nell'idea di sviluppo e devono essere integrati anche con gli strumenti per la continuous integration e la continuous delivery questo perché ovviamente sarebbe complicato gestire qualcosa di sganciato dal nostro ambiente di lavoro i test di sicurezza dovrebbero essere progettati per ridurre al minimo l'intervento degli analisti di sicurezza la scansione la risoluzione dei problemi devono quindi essere quanto più automatizzate e trasparenti possibili questo proprio perché come dicevamo non devono rallentare il flusso di lavoro devops inoltre l'integrazione con gli strumenti per la sicurezza e l'esecuzione delle scansioni dovrebbero avvenire quanto più possibile mediante api senza che sia necessario accedere all'interfaccia del prodotto questo requisito è fondamentale perché abilita l'automazione consente inoltre di verificare i test e i risultati da un'unica console evitando anche la sovrapposizione di ruoli e competenze tra il team di sviluppo e il team di security è importantissimo impostare e condividere dei requisiti di sicurezza validi per tutte le nuove applicazioni non solo magari per quelle esistenti che magari non sono facili da convertire e possibilmente dobbiamo utilizzare degli strumenti per il threat modeling quindi andare a comprendere le minacce e capire quali sono anche le contromisure infine dobbiamo tracciare tutte le anomalie sul sistema di bug tracking già usato dagli sviluppatori e possibilmente dobbiamo automatizzare anche questo processo per evitare che si aggiunga dell'overhead sulle attività che già fanno i nostri sviluppatori Gartner suddivide i passaggi e gli strumenti del DevSecOps in dieci categorie personalmente apprezzo molto questo schema perché aiuta a capire che stiamo parlando di un tema estremamente complesso e non di una semplice buzzword in questa sessione non abbiamo la possibilità non abbiamo il tempo di analizzarli tutti vorrei però mettere in evidenza che ogni tappa del percorso tratta degli aspetti che non sono risolvibili semplicemente acquistando una tecnologia questo perché lo ribadisco sempre l'ho detto tante volte durante i miei interventi pubblici la sicurezza è un processo e non un prodotto un altro aspetto su quale vorrei farvi concentrare è che il risanamento del debito tecnico sul fronte della sicurezza ovviamente rappresenta l'inizio e la fine del loop lo trovate nei box 1 e 10 questo ribadisce l'importanza della formazione un tema che a noi di parte che è molto caro non a caso la nostra linea security dell'offerta parte che educational include dei corsi anche sul secure coding e sull'ethical hacking aspetti importantissimi per chi vuole andare ad affrontare le minacce moderne la domanda giusta da porsi è chi affronterà queste sfide di cui stiamo parlando bisogna partire dal concetto che tutte le persone coinvolte nello sviluppo del software dovranno ricevere un'adeguata formazione almeno sul fronte del secure coding non possiamo pensare che queste persone siano completamente sganciate dai temi della sicurezza come deve essere strutturato il percorso formativo beh da una parte dovrebbe includere almeno una prima sessione in aula e poi sarebbe sensato prevedere anche una serie di aggiornamenti periodici focalizzati su cosa beh intanto sulle più frequenti e importanti vulnerabilità che sono state riscontrate nell'analisi del codice scritto dal team stesso così da correggere immediatamente eventuali carenze tecniche ed evitare che questi errori vengano reiterati ancora e ancora giustamente qualcuno anche all'interno di parte che mi ha detto ok ma nonostante la formazione ricevuta gli sviluppatori non diventeranno magicamente degli esperti di sicurezza e quindi dovranno essere supportati da una o più persone con competenze multidisciplinari che di fatto agisca come consulente esperto e riesca anche ad anticipare potenziali problemi già durante la fase di progettazione questa figura è chiamata security champion scopriamo insieme l'identikit di questo di questo nuovo eroe che deve aiutarci a proteggere le nostre applicazioni intanto si tratta di un membro esperto del team di sviluppo che ha mostrato un forte interesse una forte attitudine per la sicurezza delle applicazioni ed è stato quindi selezionato per svolgere un ulteriore percorso formativo molto molto più intenso di quello del generico sviluppatore questa figura è molto importante perché rappresenta un fondamentale punto di contatto tra i team dev ops e di sicurezza perché perché deve essere capace di fornire consigli immediati e aiutare gli sviluppatori gli sviluppatori ad applicare immediatamente dei correttivi senza eventualmente attendere l'esito dei test automatizzati l'OWASP cioè l'open web application security project ha creato il dev secops maturity model un modello che definisce quattro livelli di maturità per le pratiche dev secops quello che vedete è un diagramma relativo a un progetto specifico al primo livello trovate la comprensione base delle pratiche di sicurezza che diciamo il minimo indispensabile per chi deve affrontare questo discorso a livello successivo troviamo l'adozione base di queste pratiche e via via andiamo verso un elevato grado di adozione e infine un'applicazione su larga scala io ve lo dico non fatevi ingannare da questo diagramma questo è solo un esempio che mostra la valutazione di un certo progetto possiamo avere i diagrammi completamente diversi in funzione del tipo di progetto del tipo di cliente e del grado di competenza e maturità della nostra azienda i parametri analizzati all'interno di questo modello sono numerosi e piuttosto dettagliati fatemi dire io vi riporto a alcuni dei principali criteri di valutazione abbiamo la copertura statica del codice eseguito all'interno della nostra pipeline di continuous integration la copertura dinamica del codice poi vedremo cosa si intende la frequenza di analisi del codice all'interno della pipeline e infine la completezza del processo di remediation di cosa delle anomalie che abbiamo riscontrato durante la fase di test considerate che per un'organizzazione che non applica tali pratiche di sicurezza anche il solo raggiungimento del livello 1 può rivelarsi piuttosto impegnativo non è banalissimo per il passaggio al livello 2 invece possiamo prevedere almeno dai 6 ai 12 mesi di affinamento costante partendo ovviamente dal livello 1 per i livelli successivi invece non è possibile fare delle stime a priori tutto dipende dall'organizzazione aziendale dal numero di risorse coinvolte dalla tipologia e quantità di progetti gestiti quindi le variabili sono veramente tante non è nemmeno così scontato che un'azienda raggiunga ad esempio il livello 4 è un tipo di valutazione che va fatta poco fa ho parlato di copertura statica e dinamica del codice prima di vedere cosa si tratta il mio dovere è precisare che non si tratta di cose assolutamente inedite che nascono assieme al DevSecOps alcuni di questi controlli erano già stati affrontati in ambito quality assurance quindi chi già segue queste pratiche all'interno dell'azienda probabilmente le troverà anche un po scontate meglio così vuol dire che il livello 1 è molto più vicino la copertura statica comprende una serie di analisi che sono anche in parte gestibili mediante piattaforme come GitHub e GitLab si parte con la scansione dei secrets e la gestione di questi secrets cioè la ricerca e la gestione di credenziali chiavi private token di accesso eccetera che potrebbero essere sfruttate per andare a violare i nostri sistemi questo è un tema molto caldo recentemente ci sono stati diversi casi importanti però è un tema che verrà affrontato tra poco da Maurizio Ostinet quindi non vi anticipo altro ci sono poi gli strumenti per la software composition analysis cioè per la verifica delle dipendenze e il supporto al patching di tutte le componenti anche e soprattutto quelle open source che sono incluse nell'applicazione questo è un problema importante perché a volte l'applicazione di per sé non ha dei bug ma alcuni framework librerie che utilizza invece sì e questi possono essere utilizzati per scopi malevoli c'è poi il tema della statica application security testing cioè la ricerca di vulnerabilità note come le famosissime CVE o eventuali errori di programmazione all'interno del codice sorgente mediante altri strumenti come GitHub Actions e Zaproxy è possibile eseguire anche l'analisi dinamica del codice cioè la ricerca delle vulnerabilità note come le CVE di cui abbiamo già parlato di un'applicazione che è in esecuzione stavolta quindi non è come si dice a bocce ferme è in esecuzione sul server e questi strumenti possono anche andare a rilevare eventuali problemi di configurazione dell'ambiente all'interno del quale il software sta girando quindi sono particolarmente utili e tipicamente vanno utilizzati anche in pieno accordo col cliente finale perché vanno eseguiti in produzione. Gli interactive application security testing rappresentano una evoluzione dei tradizionali SAST e DAST in quanto consentono di strumentare il codice ed avere una maggiore visibilità su ciò che accade. Possono rivelarsi particolarmente utili ad esempio nel testing di applicazioni mobile dove è difficile andare a fare diciamo analisi in esecuzione perché l'ambiente è completamente sganciato da noi. Considerate che per quanto riguarda SAST, DAST e YAST la scena open source e il mercato offrono una pletora di opzioni tutto sta nel capire quali sono quelle più adatte a noi. Quindi la priorità del reparto IT è di impostare dei processi che siano coerenti con il modello di ISOM e andare a individuare le tecnologie prodotti on premise, software as a service, progetti open source che siano più adatti al nostro team di sviluppo e alle proprie pipeline CICD perché ovviamente l'approccio può essere diverso a seconda dell'azienda e quindi bisogna trovare quello che si adatta meglio alle nostre esigenze. Io a questo punto ripasso la parola a Francesco e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Michelangelo, io a questo punto faccio una roba veloce cioè passo la palla invece al pubblico perché dopo questa introduzione abbastanza approfondita ovviamente non esustiva su DevSecOps sul quale potremmo dire veramente tanto, vogliamo cercare di capire a che punto siete voi non necessariamente nella strada del modello formalizzato che ha presentato Michelangelo ma cercare di capire come state affrontando il problema dei testi di sicurezza nello sviluppo software. Lo facciamo con una poll, un sondaggio su cui potete votare chiedendovi se avete già adottato metodologie e strumenti per automatizzare i testi di sicurezza nello sviluppo. Avete come al solito per chi conosce i nostri webinar quattro possibilità. La risposta più evoluta se vogliamo è sì, effettiamo diversi controlli all'interno del flusso DevSecOps oppure altri controlli come diceva Michelangelo solo alla fine dello sviluppo oppure ancora la possibilità di effettuare dei test solo da parte di personale dedicato e poi l'immancabile non so non risponde. Diamo un paio di minuti al pubblico per scegliere la sua risposta. Io volevo nel frattempo discutere un attimino con Michelangelo. C'è un tema fondamentale che viene descritto indirettamente da quello che dicevi tu cioè come nel DevOps si è un po' sottolineato che la responsabilità dell'implementazione di qualità delle applicazioni non è solo del team di sviluppo ma anche di quello di Operation il messaggio che esce un po' da quello che dicevi tu è che la responsabilità della sicurezza applicativa è distribuita. Assolutamente, confermo ciò che hai detto. È inutile pensare che le funzioni aziendali opinono come dei silos e ognuno non abbia competenze su ciò che deve fare l'altro. Questo perché poi si vanno a creare dei mostri. Io ricordo situazioni del passato in cui effettivamente un'applicazione veniva sviluppata per lungo periodo, veniva rilasciata e alla fine una volta portata in produzione veniva testata seriamente sul fronte della sicurezza. Si ricevevano dei report enormi, mostruosi, elaborati ovviamente dagli analisti e questi report venivano mandati a ritroso nella catena fino agli sviluppatori che a volte non avevano neanche le competenze adatte a comprendere ciò che c'era scritto nel report e figuriamoci quindi ad applicare le contromisure. Quindi è chiaro che dobbiamo ragionare in un'ottica di collaborazione creando una cultura della sicurezza condivisa ovviamente con vari livelli di competenze e di professionalità sarebbe assurdo pensare che siano tutti uguali, lo stesso varrebbe per lo sviluppo o per le competenze in ambito operations però è assolutamente necessario iniziare a distribuire queste competenze e queste responsabilità per far sì che gli artefatti software che vengono poi deployati in ambienti di produzione arrivino con una minima quantità di patch da fare e non siano invece dei colabrodo ecco quindi questo è un aspetto molto importante sicuramente. Grazie, nel frattempo abbiamo ricevuto un po' di risposte e io direi che ci fermiamo per quanto riguarda la votazione e i risultati sono abbastanza prevedibili se vogliamo. Tu cosa dici Michelangelo? Vince ma di poco il no sostanzialmente senza una struttura decisa e definita dei test software quindi c'è ampio spazio di miglioramento diciamo così anche se il 15% o quasi che ha già dei controlli nel flusso è consolante. Guarda, è probabile che chi ha risposto dicendo sì lo facciamo già nel flusso DevOps ha già dei team dedicati alla quality assurance o usa già piattaforme ad esempio come dicevo GitHub e GitLab e che li facilita nella scansione ad esempio delle CVE nella risoluzione dei bug nell'aggiornamento, nel patching dei framework esterni di terze parti e così via. Quindi queste persone, scusate, queste aziende sono sicuramente avvantaggiate nel percorso verso il Dels e Coops invece quel 36% che non sanno rispondere o quel 30% circa che dice che i controlli vengono fatti solo alla fine si trova un po' nella situazione di moltissime aziende italiane che conosciamo non è un mistero all'estero stanno già iniziando a muoversi attivamente sul front del Dels e Coops mi pare che Gartner stimi che da qui alla fine del 2021 a livello worldwide circa il 70% delle aziende abbia avviato un percorso per essere compliant a queste pratiche e abbia già introdotto controlli di sicurezza lungo tutto il flusso di sviluppo. Quindi possiamo solo aspettarci che anche in Italia ci sia con il tipico ritardo che abbiamo sul nostro mercato vengano accolte queste pratiche. Sì, anche perché tu hai iniziato a citare alcune cifre degli analisti le previsioni del mercato sono assolutamente di crescita nel senso che anche per quello che è successo durante la pandemia durante il lockdown le aziende hanno sempre più bisogno di digitalizzazione c'era anche prima, nel senso che già prima del lockdown IDC prevedeva che proprio la maggior natura software delle aziende portasse a una necessità di generare nei prossimi 5 anni qualcosa come mezzo milione di applicazioni globalmente dove applicazioni non sono solo quelle monolitiche ma sono anche qualcosa di un po' più agile e cloud nativo però al di là di questa previsione che, se vogliamo, è un po' ad effetto diversi analisti, diversi da IDC prevedono cifre interessanti ad esempio ci sono delle cifre che sono circolate in reports and data per cui tutto il mercato DevOps dovrebbe arrivare a qualcosa come 18 miliardi di dollari nel 2027 a cavallo del 2019-2020 altre cifre di Research and Markets parlano di una crescita di questo settore di quasi il 30% e comunque una crescita costante del 20-25% a seconda degli analisti anno su anno è chiaro che questa è una risposta alla necessità di digitalizzarsi è una risposta alla necessità di sviluppare applicazioni che non viene più solo dall'IT lo sappiamo, viene anche dalle divisioni di business ma è un rischio perché il termine con cui molti IT manager si stanno familiarizzando è quello di supply chain attacks all'inizio del webinar citavo non a caso il caso di SolarWinds che non solo fa notizie ma è diventato proprio uno spartiacco ci siamo resi conto o perlomeno tutti si stanno rendendo conto che la sicurezza nello sviluppo non è un problema solo di aziende che magari non hanno mai fatto sviluppo è un problema di chiunque perché sappiamo che quel problema lì quella falla di SolarWinds o dei sistemi collegati a SolarWinds ha coinvolto migliaia di imprese perché? perché lo sviluppo è diventato estremamente complicato e articolato in particolare per il numero di strumenti e di servizi che si utilizzano per lo sviluppo e per l'implementazione delle applicazioni questo ci porta al tema che invece affronterà One Identity e quindi parlerei di Secrets Management proprio con Maurizio a cui passo volentieri la parola grazie Francesco ecco qui ok buongiorno a tutti benvenuti e direi iniziamo subito con un cenno su One Identity su chi è One Identity One Identity è un operatore globale sul mercato YAM al 100% di proprietà del gruppo Quest in origine eravamo parte di Quest e da circa 4 anni siamo una legal entity separata per lavorare sul mercato dell'identity access management con un portafoglio d'offerta che è basato sostanzialmente su una piattaforma integrata di identity security che comprende le componenti che in questo momento sono maggiormente rilevanti sul mercato e che vedete qui rappresentate nella slide e mi riferisco in particolare all'identity governance e administration dove sono inclusi processi come joiner mover levers segregation of duties campagne di certificazione di gestione del mondo active directory attraverso uno strumento che realizza un vero e proprio firewall attorno all'active directory e di PAM dove il nostro approccio è basato su Savecard una soluzione di vaulting di tipo black box con la quale forniamo password management session management, analytics e che è alla base del tema di cui parleremo oggi essenzialmente noi vediamo la sicurezza strettamente legata alle identità e per il raggiungimento di questo obiettivo riteniamo servano elementi di PAM elementi di governance e l'aspetto chiave per ottenere la governance è l'ownership dei processi e quindi fondamentalmente entrano in gioco le persone i processi e la tecnologia parliamo ora di DevOps come Michelangelo ci raccontava prima DevOps è una metodologia di sviluppo del software che è basata sulla comunicazione sulla collaborazione tra i team di sviluppo e di operation e DevOps è fondamentalmente costituito da pipelines che devono tenere il passo con le richieste e i requisiti sempre più stringenti dei clienti in termini di rilasci delle applicazioni un po' come ne faceva Cenno all'inizio del webinar Francesco infatti l'aspettativa delle persone è sempre più quella di avere disponibili le proprie applicazioni preferite che includono le ultime funzionalità sempre più velocemente se pensiamo allo svolgimento delle fasi che sono rappresentate in questo diagramma con l'obiettivo di rilasciare ai clienti le ultime novità nel più breve tempo possibile l'interazione tra i team di sviluppo e operation si caratterizza in termini di velocità velocità e automazione tipicamente abilitando comunicazioni tra applicazioni rendendo i processi ripetibili e andando a tipicamente eliminare gli errori che sono legati all'azione umana quindi è fondamentalmente un esercizio di velocità questo approccio basato su pratiche e strategie che coinvolgono nuove tecnologie e nuovi processi richiede l'adozione di misure di sicurezza in svariati ambiti del DevOps ad esempio occorre proteggere repository o aree di storage o le comunicazioni tra microservizi e parlando di sicurezza vediamo in particolare i concetti di secrets e di PAM le esigenze di sicurezza a cui ci riferiamo implicano la limitazione dell'accesso alle risorse e il controllo dell'accesso richiede un processo di autenticazione che tipicamente viene eseguito tramite secrets il possesso di un secret autentica e richiedente come attendibile un secret potrebbe essere una password una chiave privata piuttosto che un token l'autenticazione tramite il possesso di un secret nell'ambito DevOps è caratterizzata dal fatto che il richiedente è tipicamente un processo automatizzato piuttosto che un essere umano e come abbiamo visto la velocità è un aspetto critico e fondamentale di conseguenza i requisiti che derivano da questi scenari non consentono di attendere il completamento di un workflow di approvazione manuale tipico del mondo PAM tradizionale per ottenere un secret il modo più semplice per automatizzare un processo DevOps è usare secrets incorporati all'interno del codice ma chiaramente questo approccio va decisamente a confliggere con quelli che sono i requisiti di sicurezza e di compliance che impongono che i secrets debbano essere conservati in modo sicuro e periodicamente ruotati il secret deve essere consegnato al processo automatizzato che ne ha necessità sia che si tratti di un sistema di compilazione di un orchestrator o di uno script oltre a questi problemi rimane la percezione da parte del security team che gli sviluppatori introducano rischi significativi nella gestione DevOps infatti le modalità che sono utilizzate nelle attività di sviluppo del software cambiano ed evolvono molto rapidamente e tipicamente gli sviluppatori amano utilizzare le tecnologie più nuove e accattivanti quindi è facile che si generino situazioni di attrito tra i team di sviluppo e di operation e qui entra in gioco Safeguard che è stato disegnato per integrarsi con qualsiasi sistema on premise in cloud o in ambito DevOps o RPA per i quali è disponibile un set di API costruito per essere utilizzato specificamente da un processo automatizzato piuttosto che da un umano e Safeguard è stato pensato e creato secondo un approccio API first che significa la capacità di esporre un ampio set di API rest per rendere disponibili tutte le funzioni che sono eseguibili dall'interfaccia utente in modo da rendere facile lo sviluppo dell'integrazione di tipo application to application è possibile applicare le logiche di identity governance per garantire che non solo le policy e le regole in ambito PAM ma siano quelle effettivamente necessarie ma anche attestare l'effettiva assegnazione di quelli che sono i secrets all'identità in funzione del loro ruolo all'interno dell'organizzazione è possibile abilitare il monitoring e la registrazione di una sessione per indirizzare ad esempio esigenze di compliance potrebbe essere in questo senso abilitato il monitoring e la registrazione dell'attività di uno sviluppatore in ambito RPA che ha il potere di gestire allo stesso tempo robot che svolgono attività critiche e che sono in conflitto tra di loro gli utenti umani che devono accedere ai sistemi possono continuare ad utilizzare i loro strumenti per esempio il classico client party per SSH senza vedere impattata quella che è la loro operatività e pensando ad un contesto di PAM tradizionale tipicamente un attore umano effettua una richiesta di accesso che magari dovrà essere approvata da un altro umano e a seguito del suo utilizzo il secret viene rilasciato questo processo non è sufficientemente veloce pensiamo appunto al discorso di prima sui concetti di automazione e di velocità non è sufficientemente veloce per funzionare in un ambiente DevOps per l'ambiente DevOps proponiamo un altro approccio che si realizza con le API Application to Application che sono costruite proprio allo scopo di realizzare una semplice integrazione con praticamente ovviamente qualsiasi applicazione indipendentemente dal linguaggio con cui è scritta in questo caso il processo automatizzato è in grado di accedere ad un secret effettuando una singola chiamata mantenendo elevati livelli di sicurezza infatti le API Application to Application utilizzano dei meccanismi di strong authentication basati su certificati o digitale chiave privata a livello client oltre a restrizioni a livello IP allo scopo di garantire che le credenziali siano correttamente rilasciate alla controparte legittimamente autorizzata un'altra importante caratteristica è la possibilità di abilitare il monitoring di operazioni di password change su secret questo significa che un'applicazione non deve costantemente richiedere il secret ogni volta che è necessario ma può conservarlo localmente nel momento in cui SaveGuard ne effettua la rotazione ottenere un aggiornamento in real time e qui vediamo l'architettura sulla sinistra abbiamo l'appliance SaveGuard che protegge i secrets che fanno riferimento all'ambito diciamo protetto in termini di sistemi target da parte di SaveGuard quindi sistemi operativi applicazioni, applicazioni legacy, database i quali possono venire consumati dai tools che sono tipici del mondo DevOps che vediamo sul lato destro ad esempio il builder Jenkins mentre al centro abbiamo il componente il secret broker for DevOps che è dove è praticamente installato un plugin per lo specifico strumento all'interno del quale verrà eseguito il push del secret che sarà poi utilizzato sempre secondo l'esempio in questo caso potrebbe essere utilizzato dal processo di build di Jenkins rendendo così semplice l'attività dello sviluppatore che non ha la necessità di incorporare il secret all'interno del codice nel caso di un password change da parte di SaveGuard il secret broker provvederà automaticamente ad effettuare un aggiornamento in tempo reale nel credential plugin di Jenkins molte soluzioni sul mercato offrono un approccio pool dove le applicazioni DevOps hanno la possibilità di richiedere direttamente al vault quelli che sono i secrets e questo però significa rendere il vault accessibile dall'esterno noi invece riteniamo fondamentale in quanto molto più sicuro l'approccio push per andare ad interagire con gli ambienti DevOps rispetto al pool le risorse e i progetti open source di One Identity in ambito DevOps sono reperibili come vedete sulla slide su GitHub dove sono anche pubblicati tutorial che consentono di apprendere facilmente l'utilizzo delle API attraverso svariati esempi di codici che sono disponibili in vari linguaggi oltre al secrets broker di cui accennavamo prima e i repository ad esempio volendo utilizzare PowerShell è possibile andare a prelevare i moduli direttamente dalla PowerShell gallery così come per nugget.org per .NET e qui ci avviamo alla conclusione e gli ambienti DevOps hanno esigenze che fanno riferimento al mondo PAM Safeguard può gestire i secrets tradizionali in ambito PAM quindi ambienti come macchine Linux dove vanno protetti gli account di root se un processo DevOps ha la necessità di interagire ad esempio con un database SQL Server on premise Safeguard può gestire la credenziale di DB Admin e renderla disponibile in tempo reale al processo stesso ora passiamo a una brevissima demo e vado a condividere lo schermo ok e quindi facendo riferimento allo schema dell'architettura appena vista dove avevamo sulla sinistra Safeguard che il vault di Safeguard che protegge diciamo quelli che sono che sono i secrets sulla destra il mondo DevOps e al centro che realizza sostanzialmente una separazione tra questi due mondi il componente del il secrets broker for DevOps che in modalità diciamo push invia in automatico la credenziale che è diciamo richiesta da un processo piuttosto che da che da un umano ecco qui vediamo andiamo a vedere proprio in questo caso un utente uno sviluppatore che sta utilizzando la console web del di hashcorp in particolare di hashcorp vault ok e ha la necessità come accennavo prima ad esempio di andare a prelevare una credenziale che sta ad esempio che è un account su un 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 SQL server ok vedete intanto che visualizza la tramite la console del vault di hashcorp viene visualizzata quella che è la credenziale quella che è la password quindi lo sviluppatore ha la possibilità di copiarla e incollarla da qualche parte vedete anche che c'è qui una history di quelle che sono le password che sono state evidentemente cambiate nel corso del nel corso del tempo in un momento diciamo iniziale e quindi l'utente va a copiarsi diciamo la password per poi andare ad utilizzarla adesso vediamo che in un momento successivo Savecard quindi pensando all'architettura la parte sinistra va attraverso un amministratore va a effettuare un change di quella che è la password di quella di quell'account che era appunto dbuser2 e quindi viene effettuato un change che potrebbe essere appunto come in questo caso manuale piuttosto che schedulato da Savecard e ritornando diciamo come attore ecco vedete la version 4 in questo caso lo sviluppatore vedete che ha la possibilità di ritrovarsi in automatico la password la credenziale attraverso la console del vault di AshCorp da notare appunto che è stata caricata in modalità push quindi la direzione è quella da Savecard verso il DevOps quindi non in modalità pull quindi di recuperarla ma è stata inviata in modo diciamo automatico questo è la web application che gestisce sostanzialmente il plugin del secret del secrets broker for DevOps quindi questa è la web application con la quale un amministratore di Savecard ha la possibilità di configurare e gestire la comunicazione del secrets broker vi ricordo il componente che avevamo al centro di quello schema in termini di architettura che abilita appunto la comunicazione vedete in questo caso è attivo il plugin di AshCorp Vault però è possibile attivare altri plugin abbiamo dei plugin che sono già disponibili per svariate tecnologie piuttosto che è possibile sviluppare uno plugin ad hoc per una tecnologia che diciamo di cui è necessario direi che la demo fondamentalmente è terminata io vado a chiudere la condivisione dello schermo e ripasso la parola a Francesco grazie Maurizio io come prima ripasso la parola al pubblico nel senso che mi piace ricordare un po' humoristicamente una frase di Totò che oggi non si potrebbe neanche tanto dire perché non è politically correct la serva serve allora noi vi chiediamo dopo tutto quello che vi abbiamo raccontato se ritenete e quanto che approcci come DevSecOps l'adozione di strumenti automatizzati per la gestione dei testi di sicurezza e in generale per lo sviluppo moderno vi possono essere d'aiuto avete quattro possibilità che sono due gradazioni di sì e una drastica gradazione di no insieme al solito non so non risponde mentre diamo come al solito qualche minuto al pubblico per dare la sua opinione come prima volevo trarre un po' un succo una parola chiave un qualcosa dall'intervento di Maurizio e mi sembra di poter dire qualcosa come frictionless cioè tutto ciò che è DevOps se non ostacola il lavoro degli sviluppatori a cui si sono abituati gli strumenti con cui si sono abituati e che preferiscono usare è molto meglio mentre invece introdurre soluzioni che cambierebbero drasticamente il loro modo di lavorare è un ottimo modo probabilmente per non diffondere un approccio come Deus e COPS tu Maurizio cosa ne pensi? sì assolutamente direi che direi che effettivamente è proprio è proprio così e direi che che è proprio il questo è proprio l'approccio che ci come dire che ci caratterizza in questo caso appunto andiamo ad abilitare come dici tu una modalità frictionless quindi andiamo ad attenuare tutti quelli che sono i possibili attriti che derivano appunto da una in qualche modo da un atteggiamento anche di prevenzione da un punto di vista culturale di chi si occupa di security rispetto a chi si occupa di sviluppo e questo riusciamo a farlo grazie a questo a quest'idea di di non andare a sostituire quelli che sono gli strumenti tipicamente utilizzati ma di andare fondamentalmente a integrarci di abilitare delle integrazioni infatti come abbiamo visto appena visto nella demo abbiamo visto un'interazione di uno sviluppatore che utilizza la console web della soluzione di Volt di fatto è un Volt di HashiCorp con i quali noi abbiamo un'integrazione quindi l'idea è diciamo in funzione del contesto del cliente il cliente può continuare a utilizzare la tecnologia quindi i client che usa i processi che usa noi sostanzialmente ci integriamo non andiamo a sostituire e fondamentalmente andiamo ad aggiungere valore questa è un po' questa è un po' l'idea bene io stoppo il televoto perché mi sembra che le percentuali siano già abbastanza stabili non so voi ma a me quello 0% sul C piace tanto nel senso che dimostra che tutti comunque un qualche cosa di DevSecOps lo hanno apprezzato ed è anche per il problema scusa di visualizzazione del browser Francesco avevi pazienza mi dovresti dire perché non so perché questa questa immagine non riesco non riesco a vedere nulla non c'è problema allora abbiamo un 71% del pubblico che dice che l'adozione dell'approccio degli strumenti DevSecOps aiuterebbe in maniera sensibile ad innalzare la sicurezza del sviluppo ok un 16% che dice sì lo aiuta ma marginalmente lo 0% è della risposta no quindi non c'è nessuno che dica che DevSecOps non serve a niente questo è consolante e un 13% non so non risponde quindi una percentuale fisiologica buone indicazioni indicazioni anche che c'è spazio e libertà di manovra farei un giro di opinioni tu Maurizio cosa ne pensi ma anche Michela sì assolutamente assolutamente direi che un po' questo questa questa indicazione corrisponde un po' a quelle che sono le nostre così le nostre impressioni di questo di questo mondo diciamo che è caratterizzato da questa come dire dinamicità da questa velocità sempre nuovo sempre sempre di corsa che però appunto ha l'esigenza comunque di mantenere dei livelli di sicurezza elevati quindi assolutamente è un'indicazione che comunque c'è una diciamo sensibilità rispetto al problema e ci sono cose da fare Michelangelo fa piacere assistere a questo plebiscito fammi dire sulla prima risposta questo perché intanto siamo riusciti a trasmettere che il DevSecOps non è una buzzword come alcuni dicevano è un problema concreto può offrire se applicato correttamente può offrire dei vantaggi enormi per chi deve andare a sviluppare ed esercire il software sia che questo sia fatto per scopi interni sia quando questo viene fatto per conto terzi quindi quando andiamo a sviluppare del codice che poi verrà rilasciato al cliente che a sua volta lo userà per offrire servizi alla sua utenza finale quindi questo è un dato estremamente interessante ci fa piacere essere parte di questo percorso bene a questo punto io passerei proprio alla sessione di domande e risposte sono arrivate alcune domande logistiche alle quali rispondo mentre aspetto che magari il pubblico diventi meno timido e ci mandi qualche altro interrogativo alcuni ci hanno chiesto se si può rivedere il webinar sì certamente si può rivedere il webinar anche dopo la sua conclusione è possibile contattare i relatori ovviamente è possibile anzi vi invitiamo a farlo per domande che magari sono troppo specifiche e non volete porre durante il webinar c'è una domanda abbastanza ampia che è stata posta soprattutto a Maurizio di esplicitare un po' meglio il concetto di PAM qui faccio un po' di pubblicità nel senso che noi abbiamo fatto un webinar dedicato proprio al PAM con Maurizio tra l'altro e quindi chi vuole può riregistrarsi e guardarlo ma se dovessimo sintetizzare il PAM in due parole mi rendo conto che non è facile però proviamoci sì grazie grazie della domanda ma sicuramente il PAM è diciamo l'idea di andare a proteggere quelli che sono fondamentalmente gli account che vengono considerati privilegiati ora storicamente gli account privilegiati erano gli account di amministrazione che avevano il potere di andare a modificare a fare qualsiasi tipo di operazione su un sistema e oggi non è più così in realtà diciamo gli utenti privilegiati quindi il PAM come mondo viene di fatto esteso e si va ad ampliare perché alla fine utenti privilegiati all'interno di un'azienda potrebbero essere anche degli utenti ad esempio che possono per conto dell'azienda gestire che so un account facebook con il quale fanno dei post e possono in qualche modo andare a influenzare quello che è in qualche modo come viene vista l'azienda stessa sul mercato e quindi alla fine l'utente privilegiato diciamo che è in funzione soprattutto di quello che è è il rischio che rappresenta la sua figura piuttosto che il piuttosto che il suo ruolo ovviamente ha scatenato una certa curiosità anche l'esperienza che parte che sta facendo con il DevSecOps come ci viene chiesto infatti se avete già avviato questo percorso di DevSecOps e che livello di maturità avete raggiunto cioè dalla teoria alla pratica direttamente ecco Michelangelo grazie allora intanto vi ribadisco quello che vi ho detto già poco fa sposare il DevSecOps non è propriamente una passeggiata sotto certi punti di vista noi partivamo un po' avvantaggiati perché applicavamo già la metodologia DevOps avevamo già dei team focalizzati sulla quality assurance se vi ricordate ne avevo detto che non era una novità inedita del DevSecOps inoltre avevamo già fatto una certa quantità di formazione sul secure coding nonostante tutte queste cose noi stessi ci consideriamo ancora in piena fase evolutiva da un po' di tempo abbiamo selezionato un bel progetto di refactoring di un'applicazione in ottica cloud native si parla di un'applicazione legacy molto datata quindi che va proprio riprogettata da zero e su questa abbiamo costruito stiamo costruendo delle nuove pipeline in cui abbiamo innestato i test di sicurezza e con l'occasione anche preso di mistichezza con una serie di tool per l'analisi statica e dinamica del codice questo è interessante perché vede coinvolti sviluppatori esperti di infrastruttura e anche coloro che hanno competenze in ambito security quindi quello che dicevamo prima creare un team congiunto inoltre basandoci sul DevSecOps maturity model possiamo dire che alcuni dei pillar su alcuni dei pillar in particolare abbiamo raggiunto un elevato livello di maturità su altri invece stiamo ancora al primo livello considerate che in alcuni casi il livello raggiunto dipende anche e soprattutto forse dai vincoli imposti dal cliente mi riferisco ad esempio alle sue procedure interne all'ambiente di atterraggio e così via anche per questo motivo possiamo trovarci davanti a dei progetti con una copertura molto diversa se vi ricordate prima ho detto che quel diagramma non era rappresentativo ma poteva essere completamente diverso ecco questo è uno dei casi abbiamo un paio di domande un po' generiche ma secondo me sono utili comunque da portare avanti allora rispondiamo a Miriam che è una studentessa e quindi vuole approfondire un po' i temi della sicurezza anche se la domanda è un po' come dire generica chi lavora nell'ambito dell'OIAM quindi Access Management di cosa si occupa nello specifico si occupa di tante cose però se dovessimo definire dei compiti chiave beh diciamo che tipicamente esatto come dici tu ci sono tante cose ma come accennavo prima nell'ambito IAM in particolare noi vediamo diciamo processi che fanno riferimento ad esempio a scenari di joiner mover leaders quindi situazioni in cui una persona viene diciamo assunta all'interno dell'azienda e da lì occorre creare tutta una serie di account di abilitazioni per quella persona perché possa accedere ai vari sistemi piuttosto che la situazione in cui la persona che sta lavorando all'interno dell'azienda viene diciamo in qualche modo a cambiare ruolo e quindi dovranno essere rimosse alcune abilitazioni eventualmente aggiunte delle altre piuttosto che nella situazione anche in cui una persona lascia l'azienda queste sono tutte problematiche che vanno diciamo gestite noi abbiamo delle soluzioni come l'identity manager nell'ambito sul tema dell'identity governance che hanno proprio l'obiettivo di gestire questi processi ad esempio il fatto di un dipendente che lascia l'azienda e quindi che va diciamo occorre procedere a tutta una serie di disabilitazioni di quelli che sono gli accessi a maggior ragione pensando al rischio che è coinvolto nel diciamo nell'andare a gestire delle figure che sono esterne che sono sempre più diciamo comunque fanno sempre comunque più parte di quello che è l'ambito dell'azienda dove il rischio magari sarà anche più elevato piuttosto che andare su a gestire processi che sono magari più evoluti quindi imporre delle policy delle regole ad esempio di segregation of duties dove vengono introdotte appunto delle logiche di governance che impediscono che una identità abbia assuma contemporaneamente determinate funzioni determinati poteri piuttosto che come anche nell'ambito legato all'ambito PAM il fatto che effettivamente determinate figure determinate identità in base al ruolo effettivamente debbano avere determinati poteri determinati livelli di accessi sui sistemi e questo è possibile farlo creando diciamo delle campagne delle vere e proprie campagne di certificazione in cui ci saranno delle figure dei manager che dovranno attestare dichiarare che effettivamente quel livello di privilegio è richiesto per quella persona e per quel tipo di ruolo una domanda alla quale può rispondere secondo me Michelangelo perché va sulla scia di quello che diceva prima il maturity model siamo per forza obbligati a raggiungere il livello di maturità più elevato? no no assolutamente no il DevSecOps maturity model è prima di tutto uno strumento per l'autovalutazione che serve a capire dove siamo e quali sono le cose che dovremmo fare per migliorare io ci tengo a ribadire che non deve essere visto come una versione moderna dei dieci comandamenti assolutamente è una guida che dobbiamo sapere usare con intelligenza valutando di volta in volta le esigenze del progetto i rischi le minacce e anche il rapporto costi benefici ci sono delle cose molto importanti che andrebbero fatte ma che possono costare molto più del rischio che della probabilità che un evento si verifichi quindi va valutato di volta in volta non dobbiamo autoimporci di raggiungere il livello massimo in ogni area solo per il gusto di avere un diagramma bello verde pieno al 100% sarebbe difficile e veramente improduttivo l'obiettivo primario deve essere creare lo ribadisco ancora una volta una cultura della sicurezza condivisa che sia accettata da tutto il team in modo da poter avviare anche quel famoso processo di continuous security efficace questo è il senso due domande un po' più tecniche che toccano la soluzione di Maurizio ci viene chiesto in particolare quali punti di forza poi alla fine vanno a sostenere il processo di DevSecOps sicuramente possiamo citare vari diciamo vari aspetti in primis accenerei al fatto appunto che noi siamo l'unico vendor sul mercato sul mercato YAM che è in grado di offrire una soluzione diciamo integrata che consenta di applicare logiche di governance al mondo PAM come avevo accennato e poi un altro aspetto sicuramente è proprio la nostra idea di non sostituire gli strumenti che sono nativi che sono utilizzati e anche in particolare nel mondo DevOps ma ad esempio se ci sono dei volt noi ci integriamo con quei volt e consentiamo l'utilizzo di quei volt nonostante noi abbiamo un volt una soluzione che fa volting però noi ci integriamo e su quella soluzione andiamo ad aggiungere il valore che è dato dalla nostra soluzione e direi un altro punto sicuramente da diciamo la mettere in evidenza è il il discorso di avere una logica push nell'interazione con il mondo diciamo con il mondo DevOps che si basa sulla strategia di mantenere l'ambiente DevOps per definizione meno sicuro completamente separato se ricordate la slide con questi due punti sulla sinistra savecard sulla destra del mondo DevOps diciamo mantenere questi due mondi completamente separati quindi PAM separato dal DevOps proprio in una logica di zero access l'ultima domanda che prendiamo poi per le altre che abbiamo vi invito a contattare direttamente sia parte che sia One Identity ci chiedono qualche dettaglio in più sull'architettura della soluzione di One Identity alcuni cenni li hai già fatti ma se puoi fare una descrizione di sintesi certo grazie della domanda ma direi che sì la soluzione savecard si basa su delle appliance ardenizzate disponibili come appliance fisiche su ad esempio su VMware su Hyper-V appliance virtuali scusate fisiche virtuali su VMware e su Hyper-V piuttosto che nei marketplace di Azure e di Amazon o anche erogate in modalità SaaS direttamente da One Identity o da un partner di One Identity e per soddisfare quelli che sono i requisiti classici in un contesto enterprise è possibile andare a configurare le istanze in cluster abilitando quindi alta affidabilità e load balancing e proprio per garantire i massimi livelli di sicurezza e di disponibilità il numero minimo di appliance in un cluster è di tre istanze contemporaneamente attive e l'approccio basato su appliance presenta svariati vantaggi rispetto a soluzioni PAM che prevedono l'installazione di software ma sicuramente in termini di effort che è richiesto per l'approntamento dell'infrastruttura di fatto veramente è molto limitato nel senso che non c'è da installare nulla c'è da fare il setup e poi chiaramente andare a definire delle policy in termini anche di manutenzione e di aggiornamento della appliance stessa ad esempio per un aggiornamento è sufficiente effettuare l'upload di un file e soprattutto non ci si deve diciamo andare a preoccupare di gestire eventuali aggiornamenti del sistema operativo che sta sotto e anche in termini diciamo di vantaggi che sono che vengono dalle caratteristiche di modularità della soluzione che è possibile comporre proprio come dei blocchettini mettere assieme e adeguare piuttosto semplicemente quindi aggiungere un appliance da una parte piuttosto che dall'altra in funzione di quelle che sono le nuove esigenze diciamo dell'infrastruttura da gestire bene grazie Maurizio io a questo punto arriverei in chiusura abbiamo sforato ma non tanto però non voglio impedire agli spettatori di andare verso una meritata pausa pranzo ringrazio Maurizio ringrazio Michelangelo per la partecipazione ringrazio soprattutto chi ci ha seguito in questa oretta abbondante di approfondimento di una tematica che in realtà richiederebbe molto più tempo ma speriamo di aver fatto una sintesi interessante e quindi posso solo salutarvi e darvi appuntamento al nostro prossimo webinar grazie e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti